16 novembre giornata internazionale della tolleranza adottata a 50 anni dalla nascita dell'unesco per ricordare i principi ispiratori della dichiarazione universale dei diritti umani approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 è tollerante chi in teoria e nell'atteggiamento pratico rispetta le convinzioni altrui in fatto di religione politica etica scienza arte anche quando siano profondamente diverse da quelle cui egli aderisce in termini di rispetto e apprezzamento della varietà delle culture la tolleranza è un esplicito riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali del prossimo attraverso comportamenti di comprensione anche in caso di contrasto per esigenze principi e desideri diversi oltre ad essere dovere morale di ciascun individuo la tolleranza è parametro fondamentale nell'orientare l'attività dei gruppi sociali e dei gruppi politici gli stati hanno il dovere di contrastare ogni forma di intolleranza con un apparato legislativo in grado di tutelare il rispetto dei diritti umani la libertà di informazione e il pluralismo attraverso il nostro corso gratuito